La Fuar de Té fiera d'estate che si svolgerà da Osta sabato 6 agosto è la versione estiva e turistica della millenaria fiera di Sant'Orso che si tiene tradizionalmente il 30 e il 31 gennaio. 400 artigiani espongono le loro opere lungo le vie della città, lavori in legno o pietra ollare ma anche materiali preziosi, attrezzi agricoli e oggetti d'arredo che raccontano un territorio e una visione del mondo. Un'occasione unica per fotografare le strade e la gente, il centro storico e le bancarelle, gli oggetti d'artigianato e gli stessi artigiani al lavoro, affrontando e risolvendo non solo i problemi tipici del fotografo di strada ma anche quelli connessi allo still life e all'uso esperto del flash. Proprio l'uso del flash, sia come luce di schiarita sia come luce principale, sarà il filo conduttore del nostro incontro che ci permetterà di realizzare un intenso reportage di livello professionale. Dedicato a chi è in vacanza in valle ma anche a chi è ancora in città e vuole trascorrere un sabato di formazione. Aosta è facilmente rapidamente raggiungibile, tanto da Torino quanto da Milano ed intorni. Chi vuole partecipare può scrivermi all'indirizzo che appare in sovraimpressione entro la sera di giovedì 4 agosto. In città e nei dintorni sono predisposti numerosi parcheggi con collegamento tramite navetta per il centro storico. L'appuntamento è pertanto alle ore 10 di sabato 6 agosto in piazza Arco d'Augusto, capolinea delle navette provenienti dai parcheggi, all'angolo con via Sant'Anselmo. Raccomando di arrivare in città con largo anticipo, calcolando il tempo necessario a trovare parcheggio, aspettare la navetta e con questa raggiungere il centro circa 30-40 minuti. Il termine dell'incontro è previsto per le ore 18. Il costo è di 50 euro a persona che saranno regolarmente fatturati. Agli interessati chiederò l'invio dei dati fiscali per poter preparare la fattura. Dato lo stretto anticipo, la quota di iscrizione potrà essere corrisposta in contanti il giorno stesso dell'incontro. Per ogni ulteriore informazione o chiarimento scrivetemi.